Mi chiamo Sofia e vengo dai quartieri spagnoli e mia madre è anche mia sorella e Quist è la terza parte della storia. A Cominciamo. Erano tutti inermi vicino alla tavola, muti, senza profolite nessuna parola. Era un silenzio assordante. A rompere quel silenzio fu Sofia con il suo pianto che reclamava la sua pappa. E così i genitori adottivi decisero di dire a Salvatore che era il caso che tornasse a casa sua e decidersi cosa fare. Anna rimase con loro e Carmela partì giù per Napoli. Carmela arrivò a casa, non riuscì neanche ad aprire la porta che appena vide le figlie scoppiò in lacrime e appena fu entrata gli raccontò tutto quello che era successo. Nel frattempo le figlie cercavano di consolarla. Lei era atterrita perché pensava di aver distrutto la famiglia di questa sua figlia. Nel frattempo entrò Agnese, la mamma di Carmela. Ora aveva 81 anni. Era una danna ancora a Zilla, una donna che non stava a fermo momento. Si appoggiò alla tavola e chiese cosa stesse succedendo e quando Carmela gli disse tutto, lei incominciò a piangere. Si appoggiò alla tavola e si sedette. Chiese un bicchiere d'acqua e zucchero e mentre lo sosseggiava intimò alle donne di sedersi insieme a lei che aveva un segreto lungo 35 anni da comunicare. E così incominciò a raccontare che quando aveva saputo che Carmela era incinta non poteva pensare però che quella bambina, la sua nipotina, potesse andare in una famiglia e lei non sapesse niente di lei. Così si ricordò che la sua vicina di casa, che si chiamava Maria, era una donna sola, un po' sfortunata in amore, ma con un grande desiderio di diventare mamma. Era un'infermiera in un ospedale. Le parlò e gli raccontò il suo piano diabolico. Disse che se lei avesse voluto avrebbero organizzato questo finto parto e dato a lei la bambina. Nel frattempo però lei avrebbe dovuto cercare una donna che era incinta e che voleva dare la bimba in adozione. Maria non ci mise molto. Lavorava lì al reparto ginecologia. Entravide subito con la donna, una straniera, che voleva dare via alla bambina senza neanche guardarla dopo il parto, perché per lei non era stato facile concepire quella bambina, visto che aveva subito una violenza. E così Maria incominciò ad aggiungere ogni mese un pezzetto a quella finta pancia. E alla gente in picciona lei diceva che aveva avuto una relazione con un uomo sposato, a cui non poteva dire il nome. Così quella sera che Carmela partorì c'erano tre bambini. Lei, questa donna a cui fu organizzato il parto, e un'altra donna. Erano un maschietto e due femminucce. La figlia di questa donna straniera fu dichiarata non sopravvissuta. E quindi la figlia di Carmela fu data a Maria e si chiamò Nunzia, come la Madonna che lei pregava. Maria organizzò ovviamente questo finto parto e portò la bambina a casa con sé. Mentre invece la figlia di quella donna straniera si chiamò Anna, come aveva deciso Carmela, e andò a vivere in adozione con delle persone al nord. Così Carmela capì in un attimo che quella ragazzina a cui lei aveva fatto da madrina, che frequentava sempre casa sua, in realtà era sua figlia. Quando seppe questa notizia chiamò immediatamente Anna e la sua famiglia, organizzò il viaggio per tornare lì. Chiamò tutti e quando erano vicino alla tavola spiegò tutto quel segreto durato 35 anni. Anna si alzò e abbracciò il marito come non aveva mai fatto prima, come se lo vedesse per la prima volta, come se fosse di nuovo un nuovo opportunità per amarsi ancora più di prima, perché capì che non era il papà. Da quel momento Anna ha deciso di non cercare mai più la sua mamma, perché aveva capito che i suoi genitori adottivi erano l'unica vera sua famiglia e che questo suo desiderio aveva portato fin troppi problemi. All'improvviso di nuovo la tragedia diventò felicità. Salvatore fortunatamente volle conoscere sua figlia con la figlia a cui aveva sempre pensato e quando andò da Carmela e la vide per la prima volta pianse. Annunzia fu dovuto dire tutta la verità. Quel padre che lei era sempre mancato quando chiedeva spiegazione alla madre, quel padre che aveva cercato per tutta la vita, ora era lì davanti ai suoi occhi e l'abbracciava forte. A volte basta poco per trasformare una tragedia in felicità e la felicità in tragedia. E come si dice in tutte le storie, vissero tutti felici e contenti. Spero che questo finale vi sia piaciuto. In realtà molti di voi mi avevano consigliato di dire che Carmela aveva avuto un rapporto prima di Salvatore, ma sinceramente non volevo che proprio noi che cerchiamo un lieto fine in una storia dovevamo far passare la protagonista Carmela per una poco di buono e quindi scaricare su di lei tutte le colpe per poter salvare un matrimonio. In questo modo ho cercato di tutelare tutti, dove tutto è stato fatto per il bene di tutte le persone e dove alla fine nessuno ha avuto conseguenze tragiche, ma che anzi tutti hanno avuto un risvolto positivo. Perché racconto questa storia? Perché molte volte nella vita reale è difficile trovare un proprio lieto fine e con queste storie vorrei che voi ampliaste la vostra immaginazione, ma soprattutto che pensate che anche nelle situazioni più difficili, impossibili, incredibili, ci può essere sempre il nostro lieto fine. Buona vita!